Ciao, sono Ilaria Venanzoni, un'archeologa della soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e quest'oggi parliamo di un reperto fra i più famosi dell'archeologia marchigiana e che vi mostro attraverso questo catalogo, Bronzi e Marmi della Via Flaminia, sculture romane a confronto, il catalogo di una mostra che è stata fatta nel 2002 presso il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola e il reperto di cui parlo è questa bella testa identificata con Ottaviano Augusto che è stata ritrovata presso la cosiddetta Domus dei Cogliedi di Castelleone di Suasa, l'antica città romana di Suasa. Come facciamo gli archeologi a capire che si tratta di Ottaviano Augusto? Il riconoscimento viene fatto tramite le ciocche di capelli che stanno sulla fronte, in particolare queste ciocche che vengono chiamate ciocche a tenaglia e queste ciocche che vengono chiamate a coda di rondine. Questo ritratto rientra in una tipologia ben conosciuta denominata Augusto tipo prima porta e questa testa è un po' diciamo la sorella gemella per così dire di quest'altra che invece si trova presso il Museo archeologico nazionale delle Marche questa è una testa di Augusto Velato Capite della tipologia Via Labicana dove si può vedere che però il trattamento delle ciocche è del tutto simile a quello della testa di Suasa. Questo reperto si trova esposto presso il Museo Civico archeologico Casa Grande di Castelleone di Suasa che vi invito a visitare quando questo periodo sarà finito e quindi per il momento invece rimaniamo in casa.